Davo un po' i numeri in quegli anni, il mio manager mi aveva convinto a non smettere di lavorare. Addirittura il giorno del funerale mi hanno fatto prendere un aereo per l'Olanda, ma non avrei dovuto. Finivo i concerti e piangevo. Ha parlato recentemente così Giorgia, settimanale gente, ripercorrendo il brutto periodo vissuto dopo la morte drammatica e prematura di Alex Baroni, il cantante ai tempi suo fidanzato, morto nel 2002 dopo un incidente con la moto. Ad un certo punto ho pensato anche di voler morire, pensavo, così lo ritrovo subito da qualche parte. Aggiunto, Giorgia, ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione, la vita non mi aveva ancora insegnato. Che può accadere? Ti saluti senza sapere che non ti vedrai più, ma poi sono risalita, perché prima o poi la vita ti insegna anche a sfruttare il dolore come risorsa. Ha spiegato la cantante che in questi anni aveva spesso evitato l'argomento. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.